benvenuti, ecco una volta scorsa abbiamo visto la texturizzazione di questo vaso oppure con i suoi difettini, vediamo ora come fare invece una texturizzazione usando le texture procedurali di Blender questo è un qualche cosa che mi è stato chiesto, la procedura è leggermente diversa e assomiglia un pochino a quella che si usa per la texturizzazione degli sculpted ovviamente non otterremo un'immagine di questo tipo ma vedremo un'immagine calcolata automaticamente quindi andiamo su il nostro Blender famoso, dove vedete abbiamo questo vaso proviamo a cercare di texturizzare questo vaso, ormai abbiamo un'immagine ma noi volendo possiamo andare nella nostra sequenza di immagini e dire che questa texture insomma non ci interessa più, cioè non la vogliamo vedere quindi l'abbiamo tolto la visualizzazione, oppure facciamo una cosa, dunque possiamo provare vediamo un po' se riusciamo a togliere un materiale quindi se noi togliamo questo materiale direi che le texture sono andate via ok, quindi creiamo un materiale nuovo di zecca, questo, a cui non ci sono texture facciamo una new quindi tra l'altro la UVMAP che ho detto adesso non la useremo in questo momento perché, no, la useremo invece, quindi conviene averla quindi la UVMAP conviene avere una UVMAP in realtà basta qualunque tipo di UVMAP teniamoci questa, che può andare bene oppure, vabbè, per fare questo tipo di cose si potrebbe anche semplicemente prendere avere questa UVMAP e invece di fargli la UVMAP che ci serviva prima per l'immagine possiamo fare una UVMAP tipo Smart UV Project questa, che vedete che proietta tutti i pezzettini del vaso in giro per lo schermo ma in questo caso per le immagini procedurali non è molto importante quali sia basta che ogni faccia sia in un posto diverso quindi si potrebbe anche fare una map penso, vediamo un po' questo qua cerchiamolo, ecco, no, questo qui forse non va anche bene beh, questo potrebbe andare bene per certe cose però adesso, oppure prendere, non so, tipo la sphere projection ma no, prendiamo l'ideale sarebbe appunto quella Smart UV Project eccola qua, tac, questo qui quindi questa UVMAP ci servirà soltanto per generare poi un'immagine fare il baking per farla, prima di tutto, dobbiamo però metterci l'immagine che vogliamo quindi, torniamo al materiale il materiale creato, vedete che c'è un colore brutto che non ci piace ah, sì, perché abbiamo detto che è associato al materiale a una texture procedurale questa texture procedurale, vedete che è una nuvola ci sono due nuvole e che hanno come default questo violetto che a me non è che piaccia tanto quindi possiamo metterci un default un pochino più armonico tipo questo quindi vengono delle nuvole probabilmente un pochino più gradevoli per vedere cosa avviene basta fare un F12 vedete che vengono un po' queste nuvolette allora, questa cosa qua si potrebbe volendo cambiare quindi al posto delle nuvole si potrebbe usare un altro texture procedurale come esempio stucci questo che fa credo che sia lo stucco quindi questa cosa qua se fate F12 vedete no, quindi sembrano tutte uguali però vi assicuro che comunque un pochino si può modificare perché qui ci sono delle caratteristiche e per la size questo si potrebbe rimpicciolire parecchio vedete qui viene un po' sabbiato F12 vedete che viene diverso questa cosa qua oppure si può prendere una questo noise che per la size ecco, vedete questo qui un rumore fatto così comunque supponete che voi abbiate fatto una qualche una qualche texture procedurale facendola con questo sistema che vi piaccia che funziona in un certo modo no? perché poi molti tutorial di Blender insegnano a fare ecco così tra l'altro si capisce anche un po' meglio cosa viene fuori ma scegliendo anziché texture il material o bot per capire come come funziona no? vabbè poi io ho trovato anche un sistema per renderlo anche interessanti questi rumori di questo tipo di oggetti perché è possibile ad esempio dire che questa texture ha un effetto sulla geometria questo è interessante perché se ha un effetto sulla geometria vuol dire quando facciamo rendering vedete che si ottiene un effetto quasi tridimensionale che però purtroppo questo effetto tridimensionale viene perso sul Second Life infatti qui vi fa vedere che si gonfia un po' allora diciamo supponiamo di avere un texture di questo tipo come si fa a riottenerla per proiettarla su Second Life? allora il sistema proposto è quello di generare un'immagine che poi andremo ad associare all'oggetto quindi come facciamo? andiamo in adesso a parte questo effetto in rilievo che non riusciremo a ottenere andremo semplicemente a generare questa immagine con il bake il bake lo otteniamo da questa macchinetta e qui possiamo costruirci un'immagine nostra quindi conviene magari prendere un'immagine neutra quindi faccio allora qui conviene magari essere in edit mode sì facciamo image new image e ci facciamo un'immagine facciamo bucket image togliamo l'alpha dimensione dipende da quanta risoluzione avete bisogno e poi fate così ok vedete questa dal momento è vuota ora questa immagine vogliamo fare il baking sopra questa immagine di quello che è il materiale di questo oggetto perché poi questa qua sarà la texture che useremo su second life quindi andiamo qui in modalità bake andiamo in fondo dove c'è il bake e poi gli diciamo di fare il baking però di cosa? se non fate nulla facendo il bake vedete che vi disegna tutti i pezzi però alcuni pezzi sono scuri perché dipendono dall'ombra in realtà per avere solo la texture bisogna andare su texture questo facendo il bake vedete che fa il bake di tutto quindi in realtà viene fuori tutto adesso che poi sia un baking fatto per benino nel senso che poi questo sia accettabile e un altro paio di maniche però sicuramente assomiglierà quello che vedete qua in questa videata volendo una cosa che ho provato a fare è il baking delle normali le normali sono un po' i rilievi visto che prima abbiamo già fatto i rilievi se noi facciamo il baking dei rilievi si ottiene un effetto una normal map che è interessantissima che in second life serve a poco però a grandi linee assomiglia un po' ai rilievi quindi dà un'idea sia pure con dei colori un po' strani quindi questi colori dovrebbero essere bisogna poi prendere questa immagine eventualmente passarla su photoshop o gimp per rendere questi colori più armonici però anche così potrebbero anche essere accettabili ok allora una volta che abbiamo questa immagine che è quella che poi andremo a mettere su second life questa immagine ce la possiamo salvare ecco il baking ha il vantaggio che ci permette di fare un save as image e qui abbiamo questa immagine questa backhead image che possiamo salvarla in formato png ad esempio quindi backhead image save as image l'abbiamo salvata a questo punto possiamo cioè dobbiamo associare questa immagine di nuovo quindi dobbiamo fare tornare al nostro oggetto in cui c'era questa immagine procedurale l'immagine procedurale non la possiamo usare perché questa non serve su second life e dobbiamo associarci invece un'immagine quindi andiamo per esempio qua gli associamo un'immagine questa texture 2 che in realtà è un'immagine vera non è più procedurale e questa immagine è semplicemente questa baked image che abbiamo fatto prima vedete che però viene applicata vediamo un po' se ci funziona con UV con quella UV map vediamo un po' se funziona direi di sì vedete che però l'immagine più o meno funziona abbiamo visto che per vederla meglio dovremmo forse vederla qua con la texture di image ma che in realtà l'abbiamo già fatto mi sembra perché texture solid eccolo qua quindi con texture solid si dovrebbe vedere più o meno come si vede si vede praticamente questi effetti quindi in teoria dovrebbe essere diciamo dovrebbe essere buona questa cosa qua per vedere se è buona dobbiamo sempre fare la prova cioè prendere questa immagine cioè questo oggetto l'oggetto in questo caso anche se lui è rimasto uguale visto che è cambiata l'EUV map quindi l'EUV map non è più quella di prima ma è un'altra dal punto di vista dell'export collada questo oggetto ha tutti gli effetti è diverso qui dobbiamo esportarlo in modo diverso quindi con un altro nome quindi andiamo selection only apply modifiers e poi questo qui diciamo vaso bucket bucket tra l'altro è il termine che si indica per quando si cuoce la porcellana mi sembra vabbè voi sapete meglio vaso bucket andiamo su qui facciamo l'import del nostro vaso bucket quindi model vaso bucket eccolo qua magari use loadable su open sim che non sono forti problemi di prim questa operazione si fa anche un po' più in fretta e conviene avere l'high e medium più o meno uguali perché questo ci consente di avere una bella visione dell'oggetto facciamo bucket vase normali erano già buone fin dall'inizio facciamo calculate ah qui tra l'altro vedete che l'anno di impatto è zero perché siamo su open sim in realtà voi dovete tenere presente questo indica il suo peso facciamo bucket vase poi facciamo contro lì il bucket vase lo metto a fianco dell'altro apparentemente identico ma non è proprio identico perché se ci mettessi l'immagine del vaso greco che avevo prima vedete che viene fuori una schifezza perché la sua uvmap è diversa quindi in realtà anche se apparentemente hanno la stessa mesh avendo una uvmap diversa le immagini che si possono applicare devono essere proprio quelle con cui sono state concepite quindi dobbiamo caricare la nostra immagine baked quindi upload image andiamo nel bucket image questa immagine vedete questa la uploado eccola qua questa baked image provo a metterla sul vaso adesso devo aspettare un attimo che arriva ci prendiamo qualche secondo spero sempre che non mi cresce tutto baked image eccola qua è arrivata e vedete che ho ottenuto questo effetto di decoro che anche se non è 3D comunque ha una certa approssimazione quindi abbiamo visto nella volta scorsa la texturizzazione normale con delle immagini normali e stasera abbiamo visto un esempio interessante con cui abbiamo usato un'immagine procedurale generata automaticamente e poi abbiamo fatto il bake di questa immagine abbiamo generato un'opportuna UV map abbiamo detto che la UV map smart UV insomma quella sistema lì andava bene il risultato finale direi che è gratificante è soddisfacente e per questa sera abbiamo finito il giro dei 4 incontri ricordo che il primo incontro avevo spiegato come usare Simon a stick per fare queste prove senza perdere di soldi nella prima lezione abbiamo visto come texturizzare un piano nella terza lezione abbiamo texturizzato sempre con quell'immagine un vaso ottenendo un effetto quasi interessante e nell'ultima lezione quella di stasera abbiamo visto come texturizzare partendo dall'immagine procedurali qui qualche piccolo difetto magari si può anche notare ma insomma nel complesso probabilmente si possono aggiustare qui ma però dovrebbe aver fatto abbastanza bene al limite poi si aggiusta questa 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 cosa poi in blender comunque per la lezione di adesso di stasera direi che va più che bene quindi vi ringrazio buonasera a tutti ciao